Celebrati il venerdì 31 marzo nella chiesa di Santa Barbara in via Cortonese, a Perugia, i funerali di Giuliano Rossi, giornalista e cameraman morto in ospedale dopo una malattia durata due anni. Giuliano aveva 69 anni, compiuti il 19 marzo. Era stato ricoverato a Santa Maria della Misericordia il 24 febbraio scorso in condizioni gravissime. Giuliano Z. Rossi, il suo soprannome, era un professionista abilissimo, aveva realizzato con le sue mani tantissimi servizi video di cronaca nera, passati anche alla storia del giornalismo. A dare l'ultimo saluto molti amici e colleghi della stampa Umbra.